Preparazione atletica ufficiale imparata da Dougie Lamping e il seve? Anche il seve da hockey guarda di che protezioni incredibili questi che si vede da vai non devi andare a sciare io e il maurizio dobbiamo fare quella solfe versione rimini versione rimini il ciabba già dentro con qui rolli va bene a posto problemi tecnici preparazione atletica ufficiale imparata da Dougie Lamping e il seve anche il seve da hockey guarda di che protezioni incredibili questi che si vede da vai non devi andare a sciare ma io metto a ria naga io e il maurizio dobbiamo fare quella solfe questo è versione rimini versione rimini il ciabba già dentro con qui rolli va bene a posto grazie grazie